Ciao a tutti, oggi per festeggiare Santa Lucia vi farò vedere gli occhi di Santa Lucia, sono i dolcetti dei tallucci piccoli con la glassa bianca sopra. Andiamo a vedere come si fanno? Ci servono mezzo chilo di farina doppio zero, un bicchiere d'olio, un bicchiere di vino, un bicchiere di zucchero semolato, un pizzico di sale e mezza bustina di lievito per dolci. Il bicchiere con cui ho misurato questi tre ingredienti è un semplicissimo bicchiere di plastica, la quantità deve arrivare fino all'inizio del bordo del bicchiere. Fatto l'impasto e lasciato riposare per almeno mezz'ora, adesso andiamo a fare i terallini. Prendiamo un pezzo di pasta alla volta, formiamo il nostro tubicino, tagliamo ora dei piccoli pezzettini e formiamo i terallucci, devono essere molto piccoli. Prendiamo i terallini, li passiamo dallo zucchero semolato, solo da un verso, e li sistemiamo sulla teglia, dalla parte non zuccherata. Li inforniamo a 170 gradi per 20 minuti. Spero che gli occhi di Santa Lucia vi siano piaciuti, noi ci vediamo presto, ciao!